Bentrovato ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format video dedicato al blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto nel mondo della consulenza del credito, ovvero di quelle società che praticamente ti fanno ottenere un mutuo per l'acquisto di casa. In studio come oggi c'è Riccardo Bernardi, CEO di 24max, la società Captive, come si dice, di REMAX Italia. Ben arrivato Riccardo. Grazie, grazie dell'invito. Allora, detto tra di noi, insomma, il modello di consulenza del credito in generale lo trovo abbastanza poco innovativo, un po' noioso, ok, passami questo tema. Però so che voi in 24max avete introdotto tre elementi che vi connotano per innovazione. Ce li vuoi raccontare? Assolutamente sì, è assolutamente vero. Noi siamo nati a luglio 2018 e siamo diventati operativi a gennaio 2019 e se dovessimo identificare gli elementi che caratterizzano il nostro progetto possiamo dire che sono essenzialmente tre. Il primo sicuramente è legato al modello di agenzia REMAX che come ben sappiamo è un'agenzia che si sviluppa in termini numerici in modo più importante rispetto alle agenzie tradizionali. No oggi in Italia abbiamo agenzie che mediamente hanno 10, 15, 20 persone all'interno di un unico ufficio con punte anche di 40, 50 fino anche a 100. Quindi questo modello essendo unico ci permette già di costruire un modello finanziario diverso dalla concorrenza, ossia che, vado al secondo elemento, che è quello di creare un punto finanziario, un vero e proprio corner identificato da un ufficio all'interno dell'agenzia immobiliare REMAX. E il terzo ed ultimo punto è il professionista, è legato al professionista che poi lavora, opera all'interno di questo punto finanziario all'interno dell'agenzia che deve essere ovviamente gradito e infatti ce li stanno segnalando i nostri affiliati agli agenti immobiliari REMAX perché poi di fatto è tutto collegato, ossia il cliente entra in agenzia REMAX, ovviamente prima verifica l'aspetto legato al credito e poi una volta che sa quanti soldi effettivamente può investire nell'acquista di una casa, inizia la ricerca con l'agente immobiliare. Bene, vado un po' con una piccola provocazione. Allora, in un mondo che guarda verso un orizzonte fatto più di accesso che di possesso, quale sarà il futuro della consulenza del credito immobiliare secondo te? Ma allora, come si dice, fammi indovino e ti farò ricco. Allora, se io vedo i prossimi anni, so che ci sono diversi movimenti all'interno del settore del credito, è cambiata, sta cambiando la normativa. Noi comunque pensiamo che la specializzazione sarà sempre il cavallo di battaglia, il cavallo vincente in questo mercato, ossia il nostro pensiero è che l'agente immobiliare comunque si occupa degli aspetti immobiliari e il meditore creditizio si occupa degli aspetti del credito, che anche se legati sono comunque molto differenti. Infatti, quando si parla di mutuo ci sono tantissimi aspetti e solo un vero specialista può andare a guidare il cliente nel modo corretto verso la soluzione più idonea per lui. Ma si continueranno secondo te a fare tanti mutui considerando che i giovani tendenzialmente comprano casa un po' meno volentieri rispetto alle generazioni passate? Ma allora, che l'affitto sia una tendenza che dà sicuramente maggiore flessibilità è innegabile. È vero anche che comunque siamo sempre in Italia sopra l'80% del... cioè noi continuiamo ad adorare il possesso dell'immobile. Probabilmente nel futuro potrebbe cambiare questo trend. Vediamo, insomma, se dovesse cambiare in modo radicale adatteremo il nostro modello al mondo che comunque inevitabilmente cambia e continuerà a cambiare. Possiamo dire che l'acquisto potrà essere forse legato anche all'investimento più che a un utilizzo diretto. Quindi compro per mettere a reddito, quindi voglio dire comunque la funzione del credito avrà sempre una sua rilevanza. Sì, infatti quello che stiamo notando è che comunque anche persone facoltose che arrivano a comprare un immobile proprio con la finalità del reddito, comunque accedono a un mutuo perché comunque i tassi sono talmente appetibili e talmente bassi dove è un peccato metterci soldi propri. È vero. Allora, consulenza del credito. Una delle più grandi sfide è sempre stata un la gestione dei consulenti, della rete dei consulenti. Vuoi per qualità, vuoi per geografia, vuoi per, se vuoi, anche profilo culturale. Tu quale sfida stai affrontando? Qual è quella più importante in questo nuovo progetto in relazione alla rete? Allora, ti rispondo da Brianzolo. Ovviamente la vera sfida delle reti commerciali è che se sei persone contente, queste persone restano. È un qualcosa che abbiamo vissuto e stiamo vivendo da vent'anni in Remax ed è un qualcosa che sicuramente vivremo in 24 Max. Il nostro obiettivo è quello di creare, di non costituire una società eccessivamente grande, ma di avere professionisti molto specializzati che possano ottenere veramente dei risultati importanti in termini economici, ma anche in termini di operatività, perché un agente 24 Max, oltre agli aspetti economici che comunque abbiamo tarato in modo che siano ai massimi livelli di mercato, l'altro vantaggio è che si trova in un'agenzia grande, quindi evita grandi spostamenti per andare da più agenti immobiliari per far sì che possa avere un numero adeguato di pratiche. E già stiamo avendo i primi risultati, perché la media pro capite di fatturato, di produzione dei nostri agenti è già sopra la media di settore, quindi questo ci rende, ci conforta sul fatto che stiamo percorrendo la strada giusta. E quindi insomma produttività e filializzazione, questa è un po' la parola chiave. E qualità di vita, il fatto di non dover girare tanto comunque ti permette anche di gestire meglio il tempo. Noi molti agenti è la cosa che mi fa piacere quando mi dicono, sai Riccardo prima facevo 40.000 km all'anno, oggi ne faccio 20.000, insomma cambia un po' la vita. È un aspetto importante questo, assolutamente sì. Allora, come vedi il panorama bancario italiano se pensi al mutuo casa? C'è ancora così tanta voglia delle banche di restare in questo tipo di mercato, quello del mutuo, considerando che forse non è fra i prodotti più remunerativi in assoluto? Allora, questo è un dato di fatto, perché comunque con tassi così bassi che non si vedono spiragli sul fatto che a breve possano esserci stravolgimenti di questa politica monetaria, sicuramente le banche non credo che sia quello il core business, però è sicuramente il primo gancio per creare nuova clientela e soprattutto nuova clientela di qualità, perché di fatto è una persona che acquista un immobile anche con un accesso al credito e comunque se la banca decide di finanziare l'operazione, stiamo parlando di una persona che dal punto di vista finanziario è profilata come piace alle banche. Poi se aggiungiamo il fatto che ovviamente fatto il mutuo bisogna aprire un conto corrente, si accredita lo stipendio, comunque poi si fa un banco, metta una carta di credito, magari si accede a tutta una serie di servizi che poi per la banca sono comunque remunerativi. Quindi rimane un'esca formidabile? Diventa un gancio per fare nuova clientela, infatti il mondo bancario che lavora con noi, comunque abbiamo 12 convenzioni attive, vedo che partecipa molto attivamente alle cose che facciamo ed è molto interessata la clientela che transita nelle nostre agenzie. Bene, allora siamo alle porte del 2020, quali sono le priorità per 24 Max e come pensi possa migliorare il dialogo tra agenti immobiliari e credito? Allora la nostra priorità in questa fase è quella di continuare lo sviluppo della rete che da qui a fine anno arriverà a contare le 50 unità, dove siamo abbastanza soddisfatti perché comunque era nei nostri piani il primo anno, avevamo un business plan da 30 corner, in realtà ne abbiamo aperti quasi il doppio perché comunque il modello piace, quindi l'idea è continuare la crescita, ma non una crescita non mirata, la nostra crescita è chirurgica, è estremamente mirata, andiamo solo a interloquire con quelle persone che sono principalmente presentate dai nostri affiliati. Non solo crescita ma anche formazione perché comunque il 16-17 dicembre avvieremo il primo corso 24 Max per andare a far sì che gli agenti possano essere sempre più performanti. Abbiamo costruito strumenti ad hoc come, adesso non so se è la prima volta che esiste nel mondo del credito, non vogliamo arrogarci questa, da neofiti non vogliamo arrogarci questo aspetto, però abbiamo creato sulla falsa riga di quanto fa un agente Remax un piano di marketing per il mediatore creditizio. Ah capita, direi un elemento innovativo. Eh sì, ossia praticamente il mediatore creditizio quando si siede al tavolo con il cliente, illustra con una brochure ben fatta graficamente che spiega in dieci punti cosa effettivamente fa un mediatore creditizio nei confronti del cliente, perché spesso il cliente pensa che sia un semplice passacarte, nella realtà un bravo mediatore parte dalla prequalifica finanziaria a capire qual è l'istituto per l'esigenza del cliente, alla raccolta della documentazione, a verificare anche che l'immobile sia a posto, perché comunque quando si fa un mutuo le banche vogliono immobili di un certo tipo, che non abbiano abuso, insomma fa tante attività per il cliente e messa in una brochure specifica, racconta, il cliente sa esattamente che questa persona non è un semplice passacarte, ma è un professionista vero e proprio che lo accompagna nell'operazione più importante della vita, perché poi spesso chi viene nella nostra agenzia a comprare a casa fa proprio questo. Benissimo. 2020 ancora, restiamo lì, c'è una cosa, un progetto, qualcosa che può essere spoilerato in relazione a 24max? Ma allora... Ne basta una, una notizia bomba da raccontare ai nostri agenti immobiliari. Ma notizia bomba è che comunque in un momento di cambiamento, perché sia il settore immobiliare che settore del credito, si stanno un po' interscambiando. Stanno un po' mischiando, contaminando. Sì, poi non so cosa succederà, tra l'altro avendo 4.000 agenti immobiliari saremmo i primi a fare un qualcosa tra agente immobiliare e creditizio. Noi crediamo nella specializzazione, questa credo che possa essere tra virgolette una notizia bomba. E sarete pronti a cogliere eventuali cambiamenti anche normativi che possano favorire un maggiore interscambio tra agente e credito? Io credo che l'agente immobiliare e il mediatore creditizio sono stati, sono e saranno legati a vita. Perché comunque chi viene in un'agenzia immobiliare spesso esce che non ha comprato una casa ma ha comprato un mutuo. Quindi questa sinergia continuerà inevitabilmente. Sinergia sì, ma pastrocchio no, nel senso che è importante che è un po' come andare da un medico. Se vado da un medico perché ho una macchietta sulla mano, chiedo al medico, ma lei fa anche un po' l'ortopedico, invece oltre che il dermatologo. Insomma, se il medico mi dice sì, dico ma come, non è la specializzazione di dermatologia. Quindi è un po', la vediamo un po' lo stesso modo. Sicuramente ci saranno aree di miglioramento su questa collaborazione, ma la specializzazione è quel qualcosa che, e poi tra l'altro vedo che è così un po' in tutti i settori, è quel qualcosa che inevitabilmente continuerà ad esserci. Benissimo, Riccardo, grazie per il tuo tempo, ti stringo la mano e ti aspetto nel 2020 con... O di sé nello spazio. O di sé nello spazio. Benissimo. Prima di chiudere, vi ricordo che se avete un progetto, un prodotto, un servizio dedicato all'immobiliare e volete presentarlo da questo sgabello, potete farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Alla prossima!